Grazie mille raga, fantastici! Vadovi a sentire un cazzo di urlo va? Un cazzo di urlo perché il prossimo pezzo è che andremo a suonare l'abbiamo scritto durante il turno di Sulle punte per sembrare grandi l'anno scorso ed è un pezzo che ci è stato ispirato da tutti quanti voi perché un pezzo che portiamo nel cuore sono fantastiche le esperienze che abbiamo provato durante quest'anno le grazie a tutte le persone fantastiche come voi e i luoghi fantastici come questo che abbiamo incontrato a proposito, fatemi un cazzo di applauso per i musici per caso per una realtà veramente incredibile esatto Voi e tutti questi posti in assoluto non possiamo farne a meno sono il nostro universo raga, universo Voi e tutti questi posti in assoluto non possiamo farne a meno Voi e tutti questi posti in assoluto non possiamo farne a meno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedi, stiamo affondando nel nostro universo, vedi che sia stato giusto, tu ci siamo addosso. Vedi che stiamo affondando nel nostro universo, vedi che sia stato giusto, tu ci siamo addosso. Vedi che sia stato giusto, tu ci siamo addosso. Vedi che stiamo affondando nel nostro universo, vedi che sia stato giusto, tu ci siamo addosso. Vedi che stiamo affondando nel nostro universo, vedi che sia stato giusto, tu ci siamo addosso. Vedi che stiamo affondando nel nostro universo.